Bellini con amarene or should I say the cherry on top. Salute, allora si ha detto salute, facciamosi. Salute. Mm, anche la menta c'ha la sua pasta un po'. Buono, buono. Allora Enrico, esattamente ci hai messo la amarena. Sì, abbiamo messo un cucchiaino di sciroppo delle amarene, abbiamo colmato col prosecco e abbiamo messo qualche goccia di succo di arancia fresca. So Enrico put a spoon of the syrup in which the amarena is cured in a special way, and then the prosecco on top of which made it nice and bubbly. And of course he finished it with a squeeze of the orange. Ma dimmi un po' questa nota, questo gusto particolare, me lo spieghi un po'. È un gusto dell'amarena, tipica della varietà di ciliegia selvatica. Questa nota viene poi arrotondata dalla nostra ricetta e che ovviamente è segreta. So now, she's telling me, what is this particular taste? And she said, of course, it's in the cherry. We rounded off with our special recipe. The recipe's over a hundred years old, and of course she didn't give me the recipe, but the taste is there. Bravo. Grazie, grazie. Salute. Salute. And we keep on cheering because it's delicious and we're gonna continue to drink. Grazie Enrico, eh? Grazie a voi. He's the one that pulled it together. Grazie, Stefano. Grazie. 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 Grazie.